Signori buongiorno Siamo ritornati su Anthony quello Quel gioco in cui l'ho portato E l'Europa Di nuovo Io ho messo questi alberelli Per modo li devo perché sennò E' un po' troppo illegal E vedremo chi vincerà Questa bella partita Avviamo Dai, dai Roma, dai L'Italia dove parte? L'Italia parte sempre dal Trentino Alto Adige Guardate Questa qua è la parte in cui colpisce Però qua spawnano i soldati Me lo potete spiegare questa cosa Per favore ASMR Il suo tempo Sono pure raffreddato Perfetto Allora vedremo Un po' tutto il mondo Però non ci sono battaglie Per ora Nada che nada Incredibile Ecco la guerra Tra portugaisi E spagnoli E hanno stravinto I spagnoli Attenzione Non mi dite Guerra Marocchini Marocchini Contro Spagnoli Attenzione che l'Italia La vedo Che è partita All'arribaggio I francesi Contro gli italiani Non possono niente Perché li battono sempre Questa cosa Non me la so spiegare Però se l'Italia Prende tutta Almeno La Germania Il resto del mondo È fottuto Ma guardate Quante città Ma i croati Che hanno Oh no Guarda i croazzi I croati Come cazzo si dice Non me ne fotte I croati Stanno rischiando Eh no Sono proprio morti Nel frattempo Che l'Italia Si è fatto questo Bell'impero I marocchini Stanno combattendo Contro I spagnoli Posso dirli così Perché mi piace Nel frattempo Che la Spagna Voglia andare A dividere L'impero Che così Rimane una parte Intelligenzialmente Per loro E l'hanno fatto Infatti Però hanno succato E mo' hanno invaso Tutto Nel frattempo Che cosa è successo? I tedeschi Sono arrivati In Inghilterra Gli inglesi Sono arrivati Più o meno A Parigi Gli inglesi Sono arrivati In Italia Cioè Deion La Spagna Ha il suo impero Questo è certo Che cazzo Ha fatto la Grecia E la Polonia Allora La Grecia Ha invaso La Serbia Mo' abbiamo I greci I greci Noi I greci Contro Scusate Per il mio italiano Corrigiuto Ma Sono un po' Fatto Cioè In senso La mia voce È fattissima Pro il cervello Poi è Natale A Natale Siamo un po' Tutti Più buoni No I tedeschi No I greci No I tedeschi Hanno fatto sboccare I spagnoli Stanno arrivando In Italia Però combattono Fa il tempo I greci Stanno arrivando In culo Alla Germania E la Polonia E la Turchia Hanno sconfitto La Russia Fa il tempo Vediamo La guerra Qua Guardate Attenzione L'Austria Che è stata Che è Questa Macchiolina Rossa Attenzione Che qua La Repubblica Ceca Ha invaso Attenzione La Turchia Turchia Ha invaso A Tine Credo Che cazzo Ha fatto l'Italia No Deon Deon No Non è possibile L'Italia Era qua L'Italia Era qua Cioè aveva Tutta sta parte qua E arrivava Tutto il mondo Più o meno Deon Vinto 14 volte Com'è possibile Che perdi così però Sempre avere paura Dei spagnoli E mo siamo fottuti Però abbiamo recuperato Il Corsica Questo per me importa E importa E importante Tensione Tensione Che la Tensione Che la Francia È ancora viva L'Italia È in mezzo Al panico Cioè Tra i greci E gli spagnoli Questa cosa Già La sto vedendo Che i spagnoli Prenderanno Sicuramente L'Italia E i greci La parte è quasi Quasi lisce La parte del nord Dell'impero Spagnolo E la parte del sud Dell'impero Sono fottuti Tutti Però Però l'Italia I greci Mi sa che Conquistano L'Italia Però ci sono I polacchi E i turchi Attenzione Grande Rimare Grande No Un cazzo I Repubbliche Vabbè Quello Attenzione Che i greci Sono arrivati Nel combattimento Contro gli spagnoli Attenzione Gli italiani Stanno Contro gli spagnoli Guarda Guarda Che Bellissimo Guarda Completamente Il punto D'attacco Gli italiani Stanno Succando Perché Se prendono Sta parte Qua I greci Siamo Fottuti Gli spagnoli Italiani Stanno Collaborando Attenzione No 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 L'Italia Strapersa Cioè L'Italia Se non Prende Sta parte Cioè Una parte Tipo Questa Parte Qua Se non Si fa L'impero Non fa Niente L'Italia No La guerra È tutta Qua Tutta Qua Stanno Arrivando Rinforzi Spagnoli Che attaccano Attenzione Gli italiani Che Gli italiani Che stanno Mandando Truppe Contro I greci Poi Se ho fatto Erori Grammaticali Cazzo Me le fotte Sono fatti In senso In senso Io uso questa parte qua Per farmi Dire che sono Stanco Cioè Non stanco Stordo Ecco Attenzione Gli italiani Che hanno diviso L'impero Dei greci Eh ma Ora si riunisce Gli italiani Hanno fatto Una gran Cosa Però si riunisce Cioè Non ci vuole Niente Ecco Qua Gli italiani Sono forti Solo che Sono la potenza Minima Eh Quello è il problema Ci sta ancora Del combattimento Ma che cazzo Fanno i spagnoli Oh Scusatevi Ecco La fine Se i greci Rubano La penisola italiana I spagnoli Sono finiti Finiti Proprio Finiti Finiti Comunque Signori Ultimo Aggiornamento Ho Un aggo Bru Quindi Oh minchia Nove minuti Ecco Abbiamo perso Il nord Ora i greci Andranno Alla 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 Guerra Potente Non è vero Attenzione Cosa è successo Deion Gli italiani Stanno cercando Di Conquistarsi Il corsica Che è questa parte qua L'hanno rubata Più o meno Però vabbè Questa cosa Mi ha intrigato Questa cosa Eh ma mo Eh Fottuti Siamo Siamo fottuti Questo è il guaio E abbiamo perso L'Italia Se si fa rubare La sardinia È morta Completamente In tutti I sensi No dai Basta Per favore Grazie Sono schiattati Attenzione Che l'Italia Potrebbe ridare Oh Guarda La Spagna Se ne è approfittata Eccola Eccola L'Italia Che conosco Conosco No No Aia Male Eh ma Siamo Fottuti Ma Non possiamo Fare più Niente Forse Si Forse No No Cioè L'Italia Ha due Capitali Noi li abbiamo distratti Ma tocca agli spagnoli fare No No Abbiamo distratti Un cazzo Un cazzo proprio Ma gli spagnoli sono finiti Sono morti Solo Hanno vinto Eh sì sì L'Italia ora è sotto i greci Quindi Non possiamo fare niente Attenzione però Non è detto Non è detto Non è detto La greci ha due capitali ora Mi intriga Ora ne avrà una No No La greci La greci Ha la capitali in Italia L'Italia è ancora viva Attenzione L'Italia è ancora viva Non mi sono Ma cazzi i greci Mi sa che Avrò una gran vendetta Dopo Però vabbè Spagnoli hanno straperso Perché se si fanno dividere È finita Sono molto intrigante Però attenzione Questa piccola parte Può dare Di più Questa è la cartina L'Italia Quando non faccio i video Vince sempre Quando faccio i video Perde Mi spiegate perché Nel frattempo Qua abbiamo stravinto E abbiamo stravinto Abbiamo straverso Devo dire I greci Non mi aspettavo Veramente i greci Non mi aspettavo I spagnoli Sì Ma i greci No Ora stanno difendendo Pure bene Se recuperassero Solo questa parte Qua E dividono La parte del nord D'Italia La prendessero La Grecia Sarebbe Di nuovo In parità Più o meno Ma guarda la differenza Di soldi Non può niente Però cazzo Stanno resistendo Dai l'ultima scagliata Dai La cosa brutta È che però Non possiamo leggere I messaggi Che si mandano Gli infami Hanno riperso Tutto I spagnoli E Niente Che ci devo fare Stanno resistendo I loro Cioè Loro sono ritornati Alla forma iniziale Del loro impero Però Quello è L'hanno Straperso Cioè Non stanno perdendo Stanno Controllando Però Un piccolo passo E sono morti Che palle Dai Che cazzo Ci vuole Ecco qua Hanno Scoperto Il punto Attaccate Da qua Attaccate Qua 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 Separate Sto cazzo L'impero Ora Stanno attaccando In tutte le parti Possibili Stanno attaccando In tutte le parti Possibili Attenzione Ecco qua Dai Non ci credo Non ci credo Non ci credo Non ci credo Ma si recupera Tutta la parte Che hanno Della spagna Guarda Eh no Hanno Straperso Non Perso Non Perso Dai Greci Non è l'ultimo Sforzo Ce la Lascio Più A Finire Questa Battaglia Ragazzi Se Vi Volete Fare Una Partita A Questo Gioco Anti Yoji Ve lo Consiglio Questo Qua Però Antiglio Online Non è Quello Offline Basta Che fate Così Editor E Create Una Mappa Molto Facile E poi Signore Ci vediamo In un Prossimo Video Vi voglio Soltanto Informare Che Se Vi ricordate Quella Quella Serie Che stavo Facendo Di Stardacla Del Gioco Che Stavo Creando Ora Sto Ricreando Tutto Il Gioco Perché Ho Perso Il Telefono Nel Mare Come Vi Ricordate In Prima Parole Lo Caricherò E Lo Farò Tutto Quanto Da Zero Devo Fare Le Mura Tutto E Sarà Un Bordello Quindi Farò Sul Canale Il Miglior Trailer Che Potrò Riuscire A Fare Per Codesto Gioco Non Questo Ma Quello Che Credo Quindi Se Volete Potete Andarlo A Vedere E Ci Vediamo In Un Prossimo Video Ciao Ciao